E non possiamo non commentare con la parte politica questo che per Forio è un grandissimo successo, il Foglio Basket a proda in finale, ancora nulla è stato conquistato, è pro che il risultato. Certo, mi permettimi innanzitutto di fare veramente i complimenti ai ragazzi del Foglio Basket e alla società per questo grandissimo risultato che hanno raggiunto. Rappresentano sicuramente un orgoglio per Forio e per tutta quanta l'isola. Per quanto riguarda noi come amministrazione con un po' di buon senso abbiamo cercato di contemporare le esigenze del centro vaccinale con le esigenze della società sportiva. Penso che ci siamo riusciti a questo punto, ripeto, con un po' di buona volontà si riescono a contemporare tutti quanti gli interessi. Ripeto, di nuovo veramente affettuosi e grandissimi complimenti a questa squadra, ai ragazzi, alla squadra e a tutti quanti. Anche se c'è ancora da combattere, però il Foglio visto quest'oggi è una squadra che dà fiducia, dà assolutamente sensazioni positive per la finale dove poi si deciderà il tutto per tutto. Certo, l'importante è essere arrivato alla finale, quello che verrà, verrà. Io penso che la squadra ha dimostrato la sua forza e non facciamo pronostici, incrociamo le dita e tutti quanti speriamo una grande successa. Allora dottore, si è parlato a lungo di questo palazzetto, ci sono state tensioni, settimane di polemiche, è tornato il palazzetto al fuorio basket, se così posso dire in maniera un po' impropria, forse nella giornata più importante in questa semifinale che ha condotto il fuorio direttamente in quel grande sogno che era finalissimo, il governo giocarsi da Serie B. Il fuorio, il palazzetto è tornato allo sport, oltre che al fuorio basket. Questo dimostra la nostra disponibilità allo sport, all'apertura e al giorno. Oggi è stata una grande festa, io non voglio fare polemica assolutamente, oggi è solo la festa dello sport del fuorio e della città di fuorio, e di un mio grande amico che risponde al nome di Vito Iacono, che ha portato a portare questa squadra a una finale di Serie B. E noi siamo contentissimi come amministrazione e come cittadini di fuorio di rifare per una squadra così importante e così forte. Quindi tensioni e polemiche ci sono state impassate ormai alle spalle? Non ci sono mai tensioni, io faccio il medico, come dico più forti, io non faccio il politico, faccio il medico, mi interessa tutto la salute delle persone, lo sport tutela la salute delle persone. Quando abbiamo ritenuto opportuno aprire il palazzetto, prima di ogni cosa l'abbiamo fatto senza nessuna polemica, non ci sono mai state polemiche soltanto, perlomeno nella mia persona, io tritero soltanto la salute delle persone. Sono sempre disponibile verso gli altri, lo sport, perché comunque lo sport fa bene, e vi ripeto, in questo non bisogna fare polemiche, bisogna tanto pensare a questa bellissima vittoria del forio basket, che è una vittoria di tutti i foriani e dello sport in generale.